E' stato siglato l'accordo già definito di valore storico tra i 195 paesi presenti a COP21. Stabilito l'ambizioso limite di massimo aumento delle temperature a 1,5 gradi entro il 2020, previsto lo stanziamento di 100 miliardi di dollari sempre entro i prossimi 5 anni da destinare ai paesi in via di sviluppo, per consentir loro di recuperare il gap rispetto ai paesi più avanzati. Previste infine revisioni quinquennali per un controllo approfondito degli obiettivi raggiunti per quanto riguarda le emissioni in atmosfera. Un accordo giusto, ambizioso ed equilibrato, l'ha definito il presidente della conferenza sul clima, Laurent Fabiou, un documento necessario per il mondo intero al servizio di grandi cause che passano attraverso la grande lotta per la tutela dell'ambiente e la virata verso l'energia pulita. Il che significa sicurezza alimentare, lotta alla povertà, diritti essenziali e, alla fine dei conti, pace. Papa Francesco All'Angelus ha commentato l'esito della conferenza sul clima di Parigi. Ora è necessario proseguire con sollecitudine, ha dichiarato. L'accordo raggiunto richiederà un impegno corale e una generosa dedizione da parte di ciascuno, auspicando che venga garantita una particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili, esorto l'intera comunità internazionale a proseguire con sollecitudine il cammino intrapreso nel segno di una solidarietà che diventi sempre più fattiva. Queste le parole di Papa Bergoglio. La grande passerella di Parigi e i risultati conseguiti non soddisfano tutti. Critiche le associazioni e i movimenti per l'ambiente, che sottolineano alcune grandi mancanze. Escluse dalla trattativa, ad esempio, le emissioni inquinanti di aerei e navi, troppo difficili da quantificare secondo gli esperti riuniti a Parigi. Non stabilita, inoltre, nei 13 giorni del congresso, una data ipotetica per la cessazione ed utilizzo delle fonti di energie fossili. Non trattato, infine, tutto il capitolo riguardante l'agricoltura. Un argomento importante, poiché negli ultimi 50 anni le emissioni di gas serra prodotte da agricoltura, silvicoltura e pesca sono quasi raddoppiate. Secondo un rapporto FAO del 2013, l'allevamento è responsabile di circa il 14,5% delle emissioni di gas serra dell'intero pianeta. un settore che influisce sul cambiamento climatico addirittura più dell'intero comparto trasporti. Parma conquista il titolo di città unesco della gastronomia, un riconoscimento che premia tutta la regione Emilia-Romagna, territorio famoso nel mondo per l'eccellenza delle sue produzioni e per la qualità della sua cucina. Parma, che si associa a Bologna, già riconosciuta città creativa per la musica, diviene ambasciatrice nel mondo dell'intero comparto agroalimentare, che hanno vera perle quali il parmigiano reggiano e il prosciutto di Parma.